Allestito all'interno del Museo delle Acque del Parco Gran Sasso Monti della Laga a San Pietro d'Isola, il Museo sullo Sviluppo Sostenibile è figlio del progetto europeo We Are the Planet, progetto ideato dall'Associazione Solstizio con la quale collabora l'artista abruzzese Giuseppe Stampone. Una delle mie utopie per quanto riguarda proprio l'arte, il senso dell'arte, proprio la didattica dell'arte, era quello di unire la nuova generazione di Teramo con quelli di OSEC, Spagna, Cipro, Olanda, Inghilterra, eccetera, eccetera. Oggi grazie ai new media, alle nuove tecnologie, questo è possibile, quindi l'arte è una sorta di medium che riesce con la propria forma a creare un'unica visione, questo era un po' il senso di tutto. Con We Are the Planet, migliaia di bambini e centinaia di docenti nei quattro paesi partner hanno avuto modo di lavorare sugli scenari e sulle problematiche dello sviluppo sostenibile sperimentando nuovi linguaggi artistici e didattici. I laboratori principali, Earth Beats e Coslogong. Earth Beats approccia il bambino alla musica, quindi agli strumenti musicali, soprattutto a una sonorità primitiva e anche un po' istintiva del bambino stesso. Mentre Coslogong fa ragionare i ragazzi sul proprio corpo, sul proprio corpo performativo. È importante il finanziamento dell'Unione Europea perché ormai con i problemi legati alla spending review serve il finanziamento dell'Unione Europea che è diretta all'educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile e in particolare per l'uso delle acque di cui è capofila la provincia di Teramo che viene realizzata attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati e di cui il Parco Nazionale del Gran Sasso e di Monte della Laga è uno dei elementi determinanti e decisivi realizzata anche in collaborazione con l'Università di Teramo. Grazie.